Scritte e proiettate sui muri, una pista di ghiaccio attorno alla fontana, neve artificiale, musica e decine di casette rosse che fanno da cornice. Questa è piazza del popolo a Pesaro, gremita di persone che non sono volute mancare alla cerimonia di accensione delle luminarie e dell'albero con 70.000 luci a LED. Uno scenario e un'atmosfera che hanno acceso l'entusiasmo di grandi e piccini, con applausi, cori d'approvazione e smartphone al cielo per immortalare con foto e video Pesaro nel cuore. Lo slogan, il progetto scelto dal comune per le iniziative di Natale. Questa invece è piazza 20 settembre a Fano, ancora vuota se non fosse per la prima parte di albero montata nella giornata di oggi. Di certo quello che non manca sono le polemiche dei fanesi che da una parte si complimentano con Pesaro e dall'altra criticano le scelte fatte per la loro città. Questo albero poteva essere carino se nel periodo natalizio lo avessero collocato nel centro di una rotatoria come un benvenuto, scrive Valeria nei nostri social. In Natale infatti per molti è una festa religiosa e tradizionale, non commerciale. Avrebbero preferito quindi un vero abete. Secondo altri invece i simboli natalizi e i monumenti fanesi raffigurati hanno lo stesso stile dei prendigetto del Carnevale di Fano, visto che l'artista che li ha realizzati è lo stesso. Paolo del Signore però difende la tradizionalità delle sue raffigurazioni. L'albero sta prendendo forma, il lavoro come vedete è abbastanza complesso perché è un albero realizzato con queste strutture e linee e poi dipinto in questo modo. È un racconto, un racconto della città di Fano, illuminata festa, ci sono dei presepi, come vedi ci sono dei simboli del Natale, la stella cometa, ci sono questi simboli che rappresentano la tipicità del nostro Natale. Ai cittadini di Bolzano invece questo albero è piaciuto molto per la sua originalità, tant'è che hanno pure pensato di farne un uguale. Ieri proprio c'è stata la delegazione di Bolzano, c'era il sindaco e c'era l'assessore, sono venuti a visionare mentre lavoravamo, perché mi era stato richiesto il progetto, perché volevano realizzare, c'era già la piazza pronta, un gemellaggio appunto con la città di Fano. Dopo purtroppo è stato un problema con la giunta così, però sono idee che verranno poi in futuro. Grazie. Grazie.